Ciao ciao, salta nella cabriolette con me Guarda dritta avanti a te, suona il clacson E hai sentito cos'è? Stanno entrando a scuola le macchimine Si fare i compiti, adesso è il momento Per ridere insieme e imparare Brum brum, vieni a scuola con noi L'autoscuola Siamo di nuovo in autoscuola Anche questa mattina Lily entra in classe per iniziare la sua lezione Buongiorno camion Oggi impareremo cose nuove e molto interessanti Guardate bene la lavagna Uno di voi dovrà affrontare tre prove Prova numero uno Il camion apprenderà i tronchi che troverà per terra E li metterà su un rimorchio Prova numero due Raccoglierà dell'acqua riempiendo il secchio vuoto che troverà accanto agli altri Prova numero tre Dovrà spegnere l'incendio con l'acqua che avrà raccolto Chi di voi pensa di poter affrontare le prove che vi ho appena descritto? Benissimo hai l'attrezzatura giusta Guardate il camion dei pompieri sta uscendo per andare al campo di addestramento dove potrà affrontare la prima prova Guardate il camion dei piniti 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 prova numero uno ricordate in cosa consiste la prova numero uno sì mettere i tronchi che vediamo a terra su un rimorchio ed ecco in azione la grande pinza wow operazione riuscita prova superata e hai ottenuto la tua prima stella attenzione prova numero due questo ce lo ricordiamo tutti c'è un secchio vuoto e il camion dei vigili del fuoco lo deve riempire con l'acqua del laghetto sì è quello giusto riempito ed ecco la tua seconda stella prova numero tre la terza prova è molto importante un albero si è incendiato e il nostro amico dovrà spegnere l'incendio e noi speriamo che faccia presto hai salvato l'albero ecco la tua terza stella tutte le prove sono state completate torniamo in classe il camion dei pompieri se l'è cavata guarda molto bene ed eccolo tornare orgoglioso in classe ottimo lavoro camion sei stato bravissimo chi affronterà la prossima prova vediamoci presto in autoscuola